Il Governo Meloni ha prorogato al 1 gennaio del 2025 il rinvio della soppressione dei tribunali abruzzesi e mette in esame la possibile riapertura degli uffici giudiziari con eventuale rimodulazione delle competenze territoriali. È così che si legge nella risposta del Vice Ministro Francesco Paolo Sisto all'interrogazione presentata dal deputato abruzzese di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, per conoscere qual iniziative il Ministero della Giustizia intenda intraprendere per garantire il mantenimento dei presidi giudiziari della Regione Abruzzo. La risposta ci conforta per due ordini di motivi, dice il deputato di Fratelli d'Italia. In primis fa riferimento al parere favorevole del Governo su un ordine del giorno che sarà legato al decreto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e poi perché il Ministero ha disposto la formazione di gruppi di lavoro per verificare la disponibilità di conciliare l'efficienza del sistema giudiziario con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire ai cittadini.